Andiamo, andiamo, andiamo per colazione. Bom 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 bom. E ne ha? E ne ha? E ne ha? Personaggio! Personaggio! Dove vai? Nuota, nuota! Dove vai? Fisciolino! Arriva! Eccolo! Eccolo che ha bevuto! Dai! E' buona! E' buona! E ne ha? Guarda che dipendo! Guarda che dipendo! Guarda che dipendo! Guarda che dipendo! Ti prendo, ti prendo, ti prendo! Scappa, scappa, ne prendo! E' buona! E' buona! E' buona! E' buona! Gli va cinque? Vai cinque! Grazie a tutti.